L'ennesima rottura, forse non l'ultima, si è consumata ieri e ancora attorno all'assessore Carla Di Biase, alla quale i ribelli di Forza Italia, suo ex partito, vogliono togliere la delega. Il sindaco Di Primio e i suoi però non gradiscono affatto il tentativo di imporre, oltre all'intervento, anche la terapia. In attesa del prossimo Consiglio Comunale sul bilancio, previsto il 12 e 13 agosto, svolazzano strascichi e brandelli dell'ultimo. Di Primio nel frattempo si è concesso una breve vacanza, ma al telefono ci ha assicurato che tornerà in tempo per l'appuntamento decisivo e poi si è sfogato. Da mesi ci chiedono di togliere la delega al commercio alla Di Biase, ora lo abbiamo fatto, ma non basta, non possono anche pretendere di imporci un nome. Mi piacerebbe invece che questi signori, ai quali abbiamo dato risposte su tutto, venissero in Consiglio Comunale, ci mettessero la faccia votando no al bilancio, così ce ne andiamo tutti a casa. In linea con Di Primio anche... Da una parte difendiamo il lavoro dell'assessore Di Biase, dall'altra non siamo attaccati o innamorati della nostra delega. Al sindaco abbiamo detto, sindaco se vuoi dare il commercio a un altro collega di giunta lo puoi fare, dici ovviamente quali deleghi assegnerai al nostro valido assessore Carla Di Biase e siamo pronti di nuovo a continuare a camminare insieme a te fino alle prossime elezioni. Però, insomma, permettere a qualcuno di girare con la testa dei nostri assessori, questo no, perché noi siamo un partito e credo che Carla Di Biase abbia operato nel bene e nell'interesse della città, del Comune di Chieti, del suo mandato elettorale e oggi anche di Fratelli d'Italia. Il piano commercio è pronto, i consiglieri di Forza Italia chiedevano il piano commercio, Forza Italia ha votato il piano commercio in commissione. Quando lo presenterà un assessore, qualsiasi, sarà votato dalla maggioranza del Consiglio Comunale, credo in maniera trasversale, perché il piano commercio non è prerogativa di un partito politico, ma è il piano che dovrebbe far ripartire il commercio della città. Credo di poter saper svolgere qualsiasi altra tipologia di delega per portare a conclusione i lavori svolti. Siamo una maggioranza costruttiva, siamo un partito costruttivo, mi ammareggiano le posizioni personali, ma politicamente ho trovato la solidarietà di tutti gli altri partiti politici e anche dei consiglieri dei gruppi misti. Alla Lega non interessano poltrone, l'unico interesse della Lega è quello di portare a termine questo mandato per evitare un commissariamento, perché un commissariamento sappiamo tutti quanti le conseguenze che arrivano in città. Grazie a tutti.